Si è chiuso in crescita il secondo trimestre del 2024 per la Manifattura Piacentina. A evidenziarlo sono le analisi dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio dell'Emilia, che parlano di un aumento della produzione industriale in senso stretto del 3,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, un dato che si contrappone decisamente a un valore medio regionale in calo del 2%. Fatturato complessivo in calo dell'1,8%, dato comunque migliore del meno 2,8% regionale, che registra invece valori lievemente positivi sui mercati esteri, sostanzialmente in linea con la crescita regionale. Secondo le previsioni di produzione per il terzo trimestre, assicurata dal portafoglio ordini, il 51% delle imprese ipotizza stabilità generale, il 23% un aumento e il 26% una diminuzione. In sofferenza invece l'artigianato, con un calo della produzione del 3,8%, migliore comunque del meno 5,6% regionale. Secondo le previsioni di produzione per il secondo trimestre, il 58% delle imprese artigiane ipotizza stabilità, il 17% un aumento, il 24% un calo.